Ecco siamo lungo la Darsena di Rimini, proprio vicini alla grande ruota che si trova sulla parte finale e ora faremo questo percorso lungo la Darsena, la riva destra, andando verso il centro. Grazie a tutti. Ecco proseguiamo qui lungo la banchina, siamo proprio sotto il faro. Numerosi pescherecci ormeggiati qui di fianco. Ecco qui la strada che poi ritorna verso il lungomare. Ecco l'indicazione al porto di Rimini. Ecco l'indicazione al porto di Rimini. Vediamo il grattacielo che si trova dietro la stazione. Proseguiamo questa lungola Darsena. Ecco, terminati i pescherecci, comincia una zona di vele, di velieri, che vediamo qui. Siamo infatti proprio di fronte al Barvela. Ecco siamo non molto distanti dal ponte che poi porta verso il centro. Ecco qui abbiamo il ponte che poi porta verso Viserba, che si trova dall'altra parte del ponte. Poi si va a Torre Pedrera, la riva bella. Ecco il ponte che poi va a San Giuliano a Mare. che è la prima località che si trova subito di qua dalla Darsena. Ecco qui abbiamo una zona di motoscafi. Ecco il ponte sulla ferrovia, che poi porta alla vicina stazione. Ecco, da qui non ci sono più imbarcazioni lungo la Darsena. Ecco, con queste immagini terminiamo questo video.